Poi dopo può essere che io e magari ogni tanto mi alzi in piedi, quindi chi riprende dovrà fare qualche fatica, però sono appassionato dell'argomento. A me sinceramente di iniziare a propagandare i danni dell'euro non me lo faceva fare nessuno, però ci sono dei momenti nella vita di un uomo dove non si può star zitti. Non si può star zitti, allora indipendentemente dalle convenienze devi cominciare a dire la verità e a quel punto lì poi dopo la verità chiama altra verità. Una volta che inizi poi dopo scopri anche cose che tu stesso non avevi pensato, a cui tu stesso non avevi prestato attenzione perché anche tu, io in primo luogo ero addormentato da tutti i luoghi comuni che ci venivano propinati ogni giorno. E però a un certo punto si dice basta, 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 non se ne può più, bisogna fare qualcosa. E quindi io ringrazio tantissimo Matteo Salvini perché per primo si è voluto informare. In questo momento la battaglia è l'informazione in primo luogo perché non si può andare a combattere contro un nemico che non si conosce. Non si può assolutamente pensare di fare delle cose affrettate o senza caponecoda, animati semplicemente da odio o così di questo tipo. No, bisogna capire. Una volta che si capira tutto poi dopo risulta conseguenziale e preciso perché la verità è semplice. Poi ogni tanto mi trovo a dover fare dei dibattiti in televisione con gente che dovrebbe essere più preparata di me, però mentono. E quindi mi risulta anche facile prevalere nel dibattito. Perché dall'altra parte ho uno che mi sta dicendo che la Trise e la Tasi saranno meno care dell'Imu e la Tarsu. Dall'altra parte mi sto dicendo guardate che ci stanno uccidendo. Ed è questo, questo, questo il motivo. E vedete che poi tutto l'argomento funziona molto ma molto di più, indipendentemente dal background o delle capacità personali, dialettiche delle persone. Quindi dobbiamo informarci. E la prima domanda che dovete porvi è come siamo capitati in una situazione del genere. Perché partite dal presupposto che non c'entra l'euro. Voi siete qui e vi volete domandare cosa sono le cause della crisi. Lo vedete tutti che ci sono le cose che non vanno troppo bene. Però nessuno vi spiega o nessuno si sofferma più di tanto a capire del perché le cose stanno andando male. E vi distraggono con una marea enorme di cose che non c'entrano nulla. E che magari sono sì brutte, sì cattive, ma non è quello. Ma cosa pensate? Che se noi domani vaporizziamo tutte le auto blu esistenti in Italia, istantaneamente abbiamo un negozio pieno di clienti. Ma chi se ne frega! Non è quello. Solo che la gente pensa, incanalano così l'odio verso degli oggetti che non servono a nulla, verso dei falsi scopi, sapendo che la gente, ma in tutta sincerità, in tutta onestà, segue questi falsi obiettivi, ma non si va a toccare cos'è il centro del problema. Anche qui, sempre, ogni tanto mi ritrovo in televisione dove dico ma scusate, ma perché noi abbiamo pagato senza che nessuno dicesse nulla? Nessuno dicesse nulla? Non ci fosse un singolo dibattito portato in televisione o anche in Parlamento per dire sì o no. Perché abbiamo pagato 52 miliardi a fondi europei per pagare i debiti degli altri e invece stiamo combattendo come i polli di Renzo per 2 miliardi dell'Imu o per 1 miliardo dell'Iva? Intanto per 52 miliardi nessuno ci ha detto niente. A quel punto mi guardano e passano così, e mi dice se c'è un punto di vista interessante parliamo adesso dell'Iva o parliamo dell'Imu o cose di questo tipo perché non si deve parlare. Mi dicessi no, è falso. Non abbiamo un debito pubblico che è cresciuto di 50 miliardi perché abbiamo passato le cose. È falso, hai dei dati sbagliati. No. Mi dico, eh, ma l'Iva, ma l'Imu, ma Rubi, ma le auto blu. Purtroppo è così. Ora, dove, quindi, cancelliamo la nostra mente. Dobbiamo fare questo sforzo di depennare quello che credavamo fosse vero, quello che credavamo fosse normale e adesso cerchiamo di, invece, concentrarci su quello che forse in fondo noi sapevamo che era così ma che non abbiamo mai avuto il coraggio, il tempo o la capacità di guardare negli occhi così come per tanto tempo non l'ho avuto io. Quindi, non sentitevi in colpa. Io sono uno che si occupa di economia, di mercati finanziari, da praticamente da quando sono nato e per tanto tempo non me ne sono accorto io di quello che stava succedendo. Quindi, come è capitato a me, non vedo perché non doveva capitare a voi. Per cui, tranquilli. Però, una cosa è non sapere le cose prima, una cosa è non riconoscerle quando gliele spiegano. Quindi, da quando uscirete qua voi, di scuse non ne avrete più. Quindi, mettetevi tranquilli che la vostra vita non sarà come prima perché, dato che ve l'abbiamo detto, le scuse poi dopo non ce le avete. Quindi, fino adesso avete il peccato originale, oggi fate un battesimo nel Giordano e poi dopo siete fuori e non avete più dubbi. Ora, partiamo dal primo problema, la disoccupazione. Quando io ho iniziato a lavorare, io ho iniziato a lavorare nell'89, alla fine del liceo, la disoccupazione qua al nord era zero. Chi non lavorava non aveva voglia di lavorare. Non c'erano dubbi. Non c'era una persona che, se non volesse fare un lavoro, non lo trovava. Magari non trovava quel lavoro che gli piaceva a lui, sotto casa sua, ma se voleva un lavoro, lo faceva. Per dire, un mio caro amico, fra l'altro militante leghista, non so, magari anche qua, comunque un mio caro amico militante leghista, lavorava con me in banca, a un certo punto fu licenziato e andò a lesse lunga a scaricare le casse. Lo presero subito. Per me è stato un esempio di vita grandissimo. Stette per poco tempo, perché poi trovò subito un altro lavoro. Ma non ha avuto un attimo di problema trovare un lavoro quale che fosse, posto che lui aveva voglia di fare un lavoro quale che fosse. Io iniziai a fare il fattorino. Iniziai a fare il fattorino e studiavo la sera intanto qui in Cattolica, perché qua a Milano abbiamo sempre avuto la cultura di lavorare e studiare, perché si poteva fare. Comunque iniziai come fattorino in borsa. Però a Piazza Affari la borsa c'era. Adesso cosa c'è in Piazza Affari? Chi? Quale dito? Il dito medio c'è in Piazza Affari, di travertino sotto e di marmo sopra. Ecco, digitus impudicus. Vado lì in Piazza Affari, se anche avessi avuto giovane, volenteroso, che dice faccio il fattorino, e così questo tipo, trovo un dito medio, non trovo una borsa per potersi farsi assumere. E cos'è successo? E così per tanti altri che volevano iniziare come apprendista, che volevano iniziare con qualche, magari usciti dall'università, avevano delle ambizioni poter fare. All'epoca il curriculum, tante volte veniva accettato prima dell'uscita dall'università, i problemi dell'università era trattenere i ragazzi fino alla fine degli studi, perché le industrie se le strappavano prima, se le strappavano al terzo anno. Ma cos'è successo? Ma gente che si è sempre spaccata la schiena in fabbrica per produrre dei prodotti, per fare dei lavori che andavano benissimo, e che alla fine hanno consentito a tante famiglie di costruirsi, partite da zero, di costruirsi una posizione, una posizione dignitosissima. Abbiamo disimparato tutti improvvisamente a lavorare? Abbiamo disimparato tutti a produrre le nostre cose? Abbiamo disimparato la voglia di lavorare? Ma io penso di no. Che ci sia qualche lazzarone, per carità, magari qualcuno che si è seduto sugli allori, è in dubbio, ma c'era sempre, ma c'era anche alla mia epoca, che aveva voglia di lavorare, invece il lavoro lo trovava. Adesso non c'è. Io adesso sto male, perché ogni tanto mi arrivano sulla scrivania, pensando che io possa avere, chissà che poteri taumaturgici, dei curriculum di gente che dovrebbe meritare tantissimo, e non posso neanche pensare di propogli un posto di lavoro a questa gente qua. Non posso pensare perché il posto di lavoro non c'è. E cos'è successo? Cominciamo a pensarci cos'è successo. È successo che improvvisamente siamo entrati in questo meraviglioso mondo della moneta unica che avrebbe aperto tutti i mercati, le opportunità. Ora, se noi andiamo a guardare i dati economici, che non mentono, i discorsi che possiamo fare, le filosofie politiche possono essere quello che vogliamo, però purtroppo ci sono dei dati economici che registrano in modo impietoso, come un cardiogramma ti registra in modo impietoso che tu stai avendo un infarto, e tu puoi raccontare quello che vuoi, ma l'infarto ce l'hai, e tu puoi anche raccontare quello che vuoi, che le priorità sono altre, che in realtà sei grasso, che hai l'acne, che hai la scabbia, che hai qualsiasi altra malattia schifosa ti possa venire in mente e che non si può negare che ci sia, è lo stesso motivo quando uno dice la casta, i politici, non è che sono puliti, no, fanno schifo, per carità, lo possiamo anche sapere, ma tutte queste malattie che uno può avere non contrastano con l'urgenza dell'infarto. Cioè l'infarto devi curare quello, se no muori. E tutti gli altri non avrai mai il tempo di curarli, non avrai mai il tempo di metterti a curare la scabbia, non avrai mai il tempo di metterti a curare l'acne o l'obesità, o qualsiasi altra cavolo di problema tu possa avere. In questo momento noi abbiamo l'infarto e in questo bisogna lavorare perché non c'è altra priorità. Cos'è il dato che veniva registrato come indice dell'infarto? Perché in teoria tutto sembrava andare bene, all'inizio dell'euro, la disoccupazione scendeva anche. Non so se vi ricordate, c'erano dei periodi che tutto sommato sembrava quasi che i soldi venissero fuori dalle piante. Dice, ma da che parte vengono tutti questi soldi? Ma pensa, e così via. Quindi all'inizio sembrava che tutto andava bene, ma c'era un dato che in realtà doveva farci riflettere, vale a dire la differenza fra le importazioni e le esportazioni. Quello cominciava ad allargarsi piano, 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 ma inesorabilmente dal momento in cui noi abbiamo fissato il cambio, vale a dire cominciando dagli anni vicini al 96-97. E a quel punto noi abbiamo progressivamente continuato ad avere una moneta che ogni anno, ogni secondo diventava più forte rispetto a quella che noi avremmo dovuto avere. E la moneta più forte rispetto a quella che noi abbiamo dovuto avere comporta una cosa molto semplice, che ci risulta molto più comodo comprare cosa estere. E allora ogni giorno senza accorgersi il listino dei listino prezzi dei beni prodotti all'estero era sempre più conveniente e noi cominciavamo a comprare sempre più allegramente questi prodotti esteri che prima erano troppo cari perché noi ce li potessimo permettere e quindi il nostro frigo non è più diventato un frigo italiano ma era un frigo tedesco la nostra macchina non era più una macchina italiana ma era una macchina tedesca il nostro televisore non era più fatto in Italia ma era fatto in Germania in Corea o da qualche altra parte e man mano cominciavamo a sostituire tutto adesso non so se vi rendete conto stiamo cominciando a sostituire anche il cibo io ho preso un succo d'arancia io sono diventato matto l'altro giorno matto perché poi dopo capite che avendo questo tipo di battaglia in corso faccio attenzione a tutto l'altro giorno il succo d'arancia a casa era austriaco dico ma che che diamine sta succedendo il succo d'arancia austriaco il succo d'arancia allora a quel punto cosa succede in realtà più è forte la moneta più ti conviene comprare cose estere e c'è un piccolo problema però che se tu passi tanto tempo della tua giornata a comprare cose estere chi lavora in Italia se le cose vengono prodotte all'estero chi è che in Italia lavora nessuno si crea disoccupazione si crea disoccupazione le fabbriche chiudono i negozi chiudono e chi è avvantaggiato ne approfitta compra il tuo marchio mette il suo supermercatone e tu che ha un negozio tiri giù la serranda ma lo possono fare perché sono più forti perché il loro listino prezzi al contrario invece diventa sempre più conveniente se la Germania avesse avuto il marco e beh i suoi a furia di esportare il suo listino prezzi delle tutte le sue dei suoi prodotti aumentava e diventava sempre più complicato per gli altri comprare i loro prodotti e no invece il loro listino prezzi fermo qualsiasi sia la quantità di prodotti che loro vendono che loro riescono a vendere il loro listino prezzi non aumenta mai e quindi è come se diminuisse in proporzione perché è ovvio che se tu hai una fabbrica che vende tantissimi prodotti poi dopo fai tanti utili è più facile fare un prodotto più bello più cromato più nuovo più innovativo se tu dall'altra parte non stai vendendo niente devi giocare in difesa devi tagliare devi licenziare gente devi risparmiare sui materiali e il tuo prodotto diventa un pochettino più bruttino un pochettino meno concorrenziale eppure il tuo prezzo non cala mai a quel punto il tuo vantaggio della moneta forte viene simpaticamente rimpiazzato da una moneta forte ma è un portafoglio vuoto perché capite benissimo che fra avere una moneta che vale 100 e averne 100 che valgono 10 è meglio averne 100 che valgono 10 e invece no ah moneta forte moneta forte ma se sei disoccupato come te la guadagni quella moneta forte non ce l'hai e infatti quando poi dopo c'è stato un punto di rottura vale a dire quando ha cominciato la crisi finanziaria internazionale a cui noi eravamo totalmente immuni perché le nostre banche hanno una marea di difetti orribili però quantomeno erano talmente arretrate talmente rincoglionite scusate il coso che almeno i titoli tossici quelli su Prime e quelle robe lì non ce le aveva non sapeva neanche come scriverlo figurarsi se lo compravano quindi quelle robe lì non ce le avevano mentre mentre gli altri saltavano per aria le altre banche le nostre banche non c'erano quindi noi in teoria potevamo anche stare lì a guardare a guardare tutto e però l'illusione che avevamo scoppia perché perché quelli che ci prestavano i soldi in realtà per farci credere che andava tutto bene che la liquidità abbondava e quindi per comprare tantissimi loro ottimi prodotti le banche estere invece sono andate in difficoltà e forti e a quel punto hanno tirato indietro la mano e qua è sparito il denaro istantaneamente sono spariti i soldi perché chi li prestava non li ha più prestati e a quel punto noi siamo rimasti soltanto con la pepatencia vale a dire con le industrie chiuse industria chiusa negozio chiuso e più nessuno che ci presta i soldi e beh capite adesso che era inevitabile andare male e il nord è il primo cioè se dobbiamo trovare uno il massimo fregato di tutta questa storia qua è il nord Italia e il nord Italia perché è il massimo fregato perché le industrie erano qua era l'industria del nord che era in competizione con la Germania non altro il sud Italia aveva un altro tipo di industria residua che già era stata schiacciata dal fatto che la lira ahi noi era troppo forte per loro la lira era un po' quello che li ha fatto trovare il sud nella posizione similare a quella in cui noi ci troviamo adesso infatti tante volte uno dice cos'è cosa dobbiamo rimproverare al nostro passato nel nostro passato qualche volta abbiamo forse attribuito troppe colpe a qualcuno che certo ne aveva di sue ma non siamo mai andati a vedere poi cosa fossero le cause di quello che succedeva vale a dire se noi immaginate io faccio sempre questo esempio immaginate che l'industria del nord Italia avesse un peso di 10 e quindi fosse analoga a quella della Germania pianura padana non ha nulla a invidiare alla Germania come industria peso di 10 l'industria del sud avesse un peso di 2 la moneta italiana non era la moneta del nord Italia e non era la moneta del sud Italia era una moneta di una media e quindi mettiamo 10 più 2 diviso 2 per fare la media la lira era una moneta da 6 questo significa che l'industria del nord aveva un vantaggio competitivo era un po' messa come la Germania adesso vale a dire i suoi prodotti partivano con un listino prezzi già ribassato con lo sconto e quindi i prodotti dell'industria del nord erano facilissimamente piazzabili in tutto il mondo e tanta gente ha fatto fortuna su questa situazione dall'altra parte cos'era il rovescio della medaglia che bisognava sussidiare chi aveva invece un'industria potenzialmente da 2 e doveva gestirsi una moneta da 6 troppo forte se uno doveva aprire una fabbrica l'apriva a Vercelli o l'apriva da Grigento a parità di costo l'apriva a Vercelli per forza per tutta una serie di motivi che non sto a ricordare e allora cosa succede? succede che in realtà questo bipolarismo era quasi una specie di simbiosi che ci teneva un po' in piedi vale a dire l'industria del nord era avvantaggiata dal fatto di essere con una piccola palla al piede che pesava quindi sulla cosa ma la moneta gli dava quello slancio sufficiente per pareggiarla e questa cosa veniva pagata con i trasferimenti a sua volta poi il sud comprava i prodotti del nord e in una maniera o nell'altra noi ci tenevamo in piedi in maniera un po' stortignacola sarebbe stato molto meglio sistemare prima questa situazione perché poi è ovvio che i pagamenti interni generano mafia generano criminalità perché è ovvio se uno ha un tubo di soldi che viene trasferito giù poi chi lo gestisce questo tubo la prima cosa che succede è che si avvicina qualcuno lo prende sotto la spalla e dice senti amico adesso ti dico cosa bisogna fare e questo purtroppo succedeva però in ogni caso era un equilibrio che ci stava nel momento stesso in cui hanno detto 10 per tutti 10 per tutti sembra equo ma non è equo per niente perché se ci sono due corridori dove uno è piccolo e agile e pesa 50 kg però è molto veloce molto sveglio molto pronto come la piccola industria del nord e dall'altra parte abbiamo uno che pesa 100 kg forte ma lento pesante e si dice per equità tutte e due un bello zaino di 40 kg quello che il poveretto piccolo e agile sotto lo zaino ci finisce fa boom quell'altro invece va quindi non è equità hanno disegnato una cosa attorno che fosse esattamente su misura per i nostri concorrenti hanno disegnato delle regole assurde le curvature delle banane dei cetrioli in modo tale che chiunque avesse una piccola impresa fosse seppellito di cazzate da compilare da moduli limiti e cose di questo tipo e se no multe sanzioni devi chiudere devi sbarrare e cose di questo tipo mentre invece dall'altra parte un'industria con 100.000 persone poteva mettersi lì a fare l'ufficio curvatura banane l'ufficio diametro cetrioli e così di questo tipo senza accorgersene senza avere problemi tutto disegnato su misura per altri questa situazione ci ha fatto andare sempre più fuori competitività e adesso il risultato è quello che troviamo non ci prestano più soldi siamo sotto scacco da parte di una banca centrale che può non eletta nessuno non si capisce chi sia adesso c'è un italiano ogni tanto ci dà anche una mano per tenersi per tenerci tenerci vivi col respiratore ma non è che lo fa per il bene nostro lo fa per il bene suo ma è la volta dopo che arriva un altro pazzo cosa facciamo cioè non i soldi vengono decisi da chi ma chi ce li dà cioè uno a un certo punto decide io stacco il rubinetto e voi cosa fate quindi non abbiamo più nessuna leva per contrastare l'economia ci dicono di fare le cose il contrario di quello che bisogna essere fare perché poi dopo quando tu sei bello morto quando tu non hai più nessuna difesa quando tu sei sdraiato per terra e non puoi più competere allora arrivano e ti fanno firmare la donazione quindi dammi leni dammi i tuoi beni dammi quelle tue industrie che mi vanno bene dammi la Bulgari dammi questo dammi quest'altro dammi i tuoi negozi dammi i tuoi supermercati dammi avevo in mente qualcosa e non possiamo dire di no a quel punto perché siamo per terra ora per adesso grazie all'incredibile capacità degli imprenditori specialmente di molti imprenditori del nord siamo ancora in piedi miracolosamente perché da qualsiasi altra parte invece Grecia Spagna e così via hanno già alzato bandiera bianca da tanto tempo e noi li stiamo pagando per tenere sul giochino quindi chi dice la Spagna riprende la Grecia riprende così questo tipo allora il Portogallo al Portogallo sono stati dati 70 circa 70 miliardi di soldi nostri che significa la metà del PIL quindi significa come se a noi ne dessero 750 quindi attenzione qui l'unico paese al mondo in crisi che paga siamo noi non si capisce proprio per che motivo e io quello che mi domando è una volta che si è chiarito questo quadro e che abbiamo visto dov'è il buco abbiamo visto che non è possibile in nessun modo economicamente parlando avere una moneta che è sopravvalutata del 30% essere competitivi non possiamo non possiamo non possiamo una volta che abbiamo visto questa simpatica situazione avere della gente che ancora dopo che ha detto quelle cose che abbiamo sentito però di dire insiste a dire che le cose vanno bene che era una che è una cosa momentanea che risolviamo con la legge di stabilità ecco io provo vergogna provo vergogna che degli italiani che sono evidentemente svenduti a non so che cosa ha un'idea sbagliata possano avere il coraggio di continuare a dare alle persone delle bugie dopo che ormai è svelato il trucco è svelato l'inganno non puoi continuare a mentire non puoi continuare a mentire e io l'altro giorno ero a Radio Padania e arriva Bossi per me è stata un'emozione insomma l'ho sempre abituato a vedere in televisione allora arriva di fianco cominciamo a parlare dell'euro e Bossi dice eh sì hai ragione è vero bisognerebbe uscire dall'euro ma non è possibile perché ti sparano prima ora io penso che dovranno sparare a tanta gente io non ho paura tu Matteo hai paura? avanti voi avete paura? avete paura? e allora io adesso lascio la parola ai miei colleghi ma ricordate la verità è semplice la verità è semplice niente di irreversibile non c'è nulla basta volere perché poi dopo sono tutte cose technicalities che si possono gestire però prima di tutto bisogna capire dove vogliamo andare quando avremo capito e sapremo tutti dove vogliamo andare poi dopo tutto il resto sarà molto ma molto più facile grazie Claudio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti